signor trapanese si sono io tribunale del minore di napoli la chiamiamo per la sua richiesta di affido come l'ho detto al telefono la bambina è down la sua esperienza è qualcosa che ci ha sorpreso positivamente veramente tu e tua moglie sareste disposti a prendere alba io non ho una voglia sono veri ma tu che devi dire che siamo a sveglia io sono un'avvocata questo devi essere orgogliosissimo di averlo detto in italia l'adozione non è possibile punto ma l'affido finalmente si il profilo di luca trapanese ottimo stiamo cercando una famiglia composta da due persone una mamma in casa io non ci riesco luca lei mi devi dire quanti rifiuti è disposta ancora a far vivere ad alba ci sono delle regole se queste regole fossero sbagliate possiamo provare una strada si tratta dell'affido temporaneo un mese noi dobbiamo costruire un pezzo alla volta fino a parte la fine è temporanea lo so ed è irrevocabile senza alcun obbligo di motivazione ma l'affetto no no l'affetto no tu non puoi perdere questa battaglia è bella nata per te io sono andato per lei a i a 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 Grazie a tutti.